tante volte ci siamo ritrovati qui a dirci ottimo risultato questo si salva la prestazione no dobbiamo crescere dobbiamo migliorare per ottenere risultati oggi non otteniamo il risultato perché per me il pari non è un buon risultato maggior ragione dopo la partita con lo stoccarda che è quella che secondo me va a complicare completamente la Champions della Juve quei tre punti buttati o comunque quella sconfitta va a complicarlo questo cammino anche se ci sono ancora tante partite per qualificarsi oggi però il risultato non arriva ma arriva a prestazione la prestazione di oggi è una gran prestazione della Juventus per me una Juve che paga un errore un errore grande errore grande del primo tempo sul loro gol una ripartenza che non abbiamo gestito per niente bene credo che ci siano stati tanti errori da con se il Sao che non sfrutta la sovrapposizione di Cambiaso noi che siamo molto alti non la leggiamo bene quella quella situazione credo che manchi un po' di filtro centrocampo credo che Cabal si faccia saltare con un po' troppa facilità credo che Calulu abbia letto male la chiusura che va a fare su su David chiusura che non va a fare in realtà su di Gregorio non penso che ci siano colpe però quello che dico sempre dal portiere da Juve forse mi aspetto anche qualcosa in più nelle parate che sui gol che si prendono dove non ci sono colpe del portiere ma questo è un altro discorso io credo che la Juve paghi quell'errore credo che la Juve abbia fatto una buona partita buonissima partita le sia mancata soltanto il la facoltà di andare a fare gol gol che però ragazzi la Juventus sarebbe meritato questo è il dato di fatto io ho adorato la voglia di vincere di questa squadra dal primo all'ultimo minuto perché la Juventus da quando è scesa in campo stasera dal primo minuto fino all'ultimo ha voluto vincere la partita lo ha fatto in momenti in cui le cose andavano bene in cui le cose non andavano bene perché credo che fino al minuto adesso non ricordo esattamente il minuto ma fino al momento dei primi cambi di Juventus abbia stradominato la partita attenzione c'era da fare dei cambi questo è è normalissimo i cambi andavano fatti al 100% sono stati cambi un po un po strani dico la verità alcuni non li ho condivisi e anche in live c'eravamo raccontati questa cosa però sono andati così la lettura del mister è stata questa credo che non sia stata la lettura giusta soprattutto in occasione di ildis falso 9 io che purtroppo ero fan dell'idea di ildis falso 9 tra udine e questa vi dico che no non ci sto e forse anche bangula credo che in quella in quella posizione non non possa dare il meglio di sé quindi forse a vlaovic si poteva dare coi 20 minuti in più di tempo per per terminare la gara perché credo che quando poi togli vlaovic a questa juve la juve perda la possibilità di tenere alto il pallone perda la possibilità di avere un riferimento su cui anche lanciare la palla se se proprio sei disperato nella nel momento di caos totale dal punto di vista difensivo e soprattutto per cercare di tenere alta la palla questa è una cosa che alla juve serve cosa che ildis non riesce a fare in questo momento dal punto di vista delle caratteristiche del modo in cui va a interpretare la partita però ragazzi io vi dico che anche nel momento in cui la juve poi è andata male ai ventus negli ultimi 20 minuti non ha fatto la stessa prestazione che ha fatto nei primi 70 questo credo che sia un dato di fatto sia qualcosa di oggettivo eppure penso che anche in quei minuti in cui la juventus non è stata nel suo meglio nel suo prime all'interno di questa gara la juventus abbia mostrato la voglia di vincere queste sono vittorie dal punto di vista di una stagione che è al terzo mese nuovo progetto tecnico tanti noi giocatori tanti giocatori giovani lo so che che ci raccontiamo tante volte questa roba ma è così queste sono partite che ti fanno crescere queste sono partite che ti fanno imparare queste sono partite che aggiungi a quello che sai fare però purtroppo queste sono partite europee e noi sappiamo che in europa le partite sono tutte pesantissime perché c'è un campione ridotto a disposizione per cercare di immagazzinare punti fare punti accumulare a maggior ragione quest'anno dove la super champion si mette a disposizione un'unica grande classifica quindi io vi dico peccato perché per una partita del genere la juventus avrebbe secondo me meritato maggior fortuna ma la grande peccato siccome non è stasera è più per la partita con lo stoccarda dove hai assolutamente meritato di perdere però è proprio l'atteggiamento che ti è mancato quindi vi dico mettiamocela via questa partita che non è il risultato che volevamo non è il risultato migliore del mondo però l'eventus ha dimostrato e quando una squadra come questa dimostra queste cose qui per me è una gran reazione della juve io ho visto una juve fare bene dal punto di vista del possesso del non possesso delle ripartenze siamo anche stati un po sfortunati se vogliamo perché ci sono state delle occasioni in cui siamo andati in rete siamo andati alla conclusione con beners aveva fatto due gol stasera il primo super fuori gioco di vlauvi c'è sul secondo una gran giocata per ildis fuori gioco di poco la partita era stata preparata per andare sugli esterni andare a rimorchio su con benersi ci siamo arrivati ben quattro volte due volte la buttata dentro ma era in fuori gioco due volte la sparata alta ed era regolare anche questo fa parte del gioco delle parti no purtroppo anche questo fa parte di una partita di pallone con benersi arriverà a fare gol però anche stasera credo che con benersi abbia fatto una prestazione incredibile è un giocatore con intelligenza tattica fuori dal comune e mi piace tanto vedere giocare con beners e credo che davvero tra udine e lille la juve abbia fatto due trasferte importanti dal punto di vista della reazione del far vedere che la juventus è tornata quella squadra che può riuscire a dominare le partite può riuscire ad avere il controllo del pallone può riuscire a non subire gli avversari serve fare più gol e questo è un dato di fatto ed è una cosa che ci stiamo portando dietro ormai da troppo tempo di là c'erano due giocatori in particolare a cui prestare attenzione jonathan david che ci ha fatto gol zagrova che penso che sia stato il loro migliori in campo ha fatto pure l'assist su quella ripartenza bel giocatore veramente molto molto interessante cabale impazzito su di lui stasera ha fatto una fatica incredibile però champions league è anche la competizione che mette in vetrina in evidenza questo tipo di calciatori però c'è anche da dire che è una champions molto strana questa qui ora non so se le partite sono finite esattamente come lo erano prima ma sapevo che il real madrid stava perdendo se non erro dal milan ha perso 3 a 1 real madrid dal milan il city ha perso 4 a 1 dallo sport in glisbona quindi anche dal punto di vista della classifica la juventus si ritrova con sette punti gli stessi punti del city e un punto in più del real madrid quindi è una champions molto strana questa qui è una champions molto particolare che che non è ancora conclusa non è ancora scritta la juve la prossima avrà una partita importante in trasferta con la stone villa ed era per questo che avrei preferito massimizzare un pochettino i punti tra lì le stoccarda che secondo me non erano irresistibili però è andata così se con lo stoccarda a fine partita ero molto preoccupato mi sono detto aia se noi le partite le affrontiamo così non vinciamo contro nessuna squadra ma non in champions ma nemmeno in sarea forse anche in cup italia nelle amichevoli stasera vi dico che invece sono molto molto contento di quello che ci ha fatto vedere la juve sono molto contento di come tiago motta abbia preparato questa partita sono meno contento di come l'abbia gestita sui cambi sono onesto perché ripeto credo che i cambi abbiano un pochettino peggiorato l'inerza della partita anzi decisamente non un pochettino decisamente peggiorato l'inerza della partita della juve però se prima avevo grande speranza in questa squadra ora ne ho ancora di più perché il livello raggiunto di consapevolezza di voglia di vincere e di quello che fanno in campo di automatismi di questa juve da quando è tornata con menersa soprattutto nel giro di così pochi mesi dall'inizio del campionato secondo me è elevato siamo un po' indietro secondo me dal punto di vista realizzativo sì e questo è un grande limite della juve bisogna iniziare a fare un po' di più da quel punto di vista per tutto il resto io vedo una squadra che sa quello che fa vedo una squadra che segue l'allenatore vedo una squadra che anzi vedo un allenatore che ha le idee chiare la squadra che lo segue al cento per cento e vedo una squadra che non ha paura anche di osare qualcosa di più per andare a vincere la partita ben consapevole il fatto che così facendola puoi perdere però probabilmente ci sono più possibilità di andarla vincere è una juve l'ennesima l'ennesimo pareggio in stagione della juve io capisco che queste cose possano diventare un po' stressanti ma vi prego di non dimenticarvi mai che siamo soltanto all'inizio di un percorso di un progetto in cui la juventus ha investito tanto tempo fiducia e soldi per tiago motta e questa cosa fa parte del processo di crescita roma non è stata costruita in un giorno maggior ragione delle squadre con delle mentalità vincenti oppure secondo me siamo sull'ottima strada anche all'interno di una serata in cui il risultato non arriva non è il risultato che volevamo noi io sono molto contento della prestazione della juventus sono molto contento di quello che la juventus sta costruendo e scelgo di dare fiducia a questa juve a quest'allenatore a questo progetto sportivo perché siccome ci farà togliere davvero delle grandi soddisfazioni bisogna iniziare a dare qualcosa di più in campo sì sono d'accordo questo è un problema la juve fa pochi gol sì questo è un problema ma l'organizzazione della juve è un'organizzazione di alto livello e questo anche all'interno di serate dove non arrivano i risultati riesco a portarmi a casa il bello perché sono convinto che questa juve possa crescere ancora più di così aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti spero che la parola chiave possa essere fiducia e non delusione anche se ovviamente quando non vinci non si è mai contenti ci mancherebbe altro però credo che queste siano le strade giuste per arrivare ad avere delle grosse soddisfazioni e quindi delle grosse vittorie ciao ragazzi forza juve